A New York gli affitti brevi sono stati praticamente vietati e il sindaco di Barcellona ha annunciato che negherà e ritirerà tutte le licenze entro 5 anni. Airbnb ormai viene visto come il male assoluto e sempre più spesso si parla di overtourism. La domanda quindi è, gli affitti brevi e Airbnb sono effettivamente qualcosa di negativo che va eliminato oppure no? Proviamo a trovare una risposta nel video di oggi. Mi chiamo Jacopo D'Artaglia e sono il fondatore del blog immobiliare Evalente Italian Properties. Ogni settimana tratto di contenuti che riguardano il mercato immobiliare. E se hai bisogno di aiuto per affittare il tuo immobile o anche venderlo, puoi contattare me ed il mio team, trovi i recapiti in descrizione. Quando si parla di affitti brevi e Airbnb ci sono due fronti contrapposti. Da una parte gli albergatori e gli inquilini che cercano delle case in affitto che vedono il fenomeno degli affitti brevi come il male assoluto. Per gli albergatori perché porta via lavoro ai loro alberghi. Per gli inquilini perché gli affitti brevi comporterebbero un aumento dei costi di affitto degli appartamenti. Dall'altra parte del ring invece abbiamo i proprietari, piccoli proprietari per lo più, e i property manager che invece sostengono il fenomeno degli affitti brevi. Poiché si tratta di una fonte di reddito importante per tantissime famiglie in Italia e all'estero e per le aziende che appunto si occupano di property management. Per farci un'opinione su tutta questa storia abbastanza intricata, dobbiamo capire bene il funzionamento degli affitti brevi e di Airbnb. Airbnb tecnicamente è un OTA, acronimo di Online Travel Agency, ovvero semplicemente un'agenzia di viaggio online. Effettivamente Airbnb non ha inventato niente di nuovo e innovativo, semplicemente si occupa di mettere in contatto i turisti o i viaggiatori, non solo turisti, diciamo viaggiatori, con i proprietari di immobili che sono disponibili ad affittare per brevi periodi. È una cosa che esiste da tantissimo tempo, infatti ancora prima di Airbnb c'erano numerose agenzie che si occupavano appunto di questo aspetto, cioè di mettere in contatto i viaggiatori, magari in Italia dal nord Europa, che cercavano ville o appartamenti per soggiornare in Italia. Ciò che ha consentito ad Airbnb di espandersi così tanto è stato lo sfruttamento di internet. Quindi Airbnb ha fatto quello che facevano le agenzie che esistevano già, ma sfruttando internet e la sharing economy. Ora, Airbnb presenta una serie di aspetti positivi e una serie di aspetti negativi. Andiamoli a vedere nel dettaglio. Il vantaggio più importante di Airbnb, ma in realtà di tutte le piattaforme OTA come vedremo via avanti, è quello della fiducia. Queste piattaforme infatti consentono delle transazioni che altrimenti non avverrebbero, proprio per mancanza di fiducia. Pensate a queste due situazioni. Ho pagato in anticipo uno sconosciuto per andare a dormire nella sua camera a Roma. In realtà non so nemmeno se esiste. Oppure, ho prenotato una camera a Roma su Airbnb. La situazione è la stessa, ma il fatto che ci sia una piattaforma riconosciuta, un intermediario riconosciuto, fa sì che ci sia molto più fiducia sia da parte del viaggiatore verso il proprietario, sia da parte del proprietario verso il viaggiatore. Quindi Airbnb, gestendo la transazione e dando le relative assicurazioni, consente alle parti di avere fiducia non una nell'altra, ma almeno nella piattaforma. E questo fa sì che avvengono molte transazioni che non avverrebbero. L'aumento di transazioni quindi porta un vantaggio a tutti, ai viaggiatori, ai proprietari e all'economia in generale. Airbnb poi aggrega gli alloggi per tipologia e facilita la ricerca da parte dei viaggiatori. Un altro meccanismo molto utile delle piattaforme OTA sono le recensioni. Infatti un viaggiatore si può rendere conto se la scelta è adeguata per lui o comunque se si può affidare di quel proprietario semplicemente leggendo delle recensioni dei passati viaggiatori. Ok, quindi a questo punto magari potreste essere convinti che le piattaforme OTA come Airbnb abbiano degli effetti positivi e siano positive per il mercato immobiliare e turistico in generale. Il problema è che i business spesso producono delle esternalità negative. Questi non sono altro che problemi che il business produce, che non sono magari direttamente imputabili alle transazioni che vengono concluse tramite il business, ma hanno degli effetti che sono al di fuori di quel mercato. Il tipico esempio è l'industria dell'automobile. È in dubbio il fatto che il mercato delle automobili faciliti gli spostamenti delle persone in maniera agevole e crei un vantaggio enorme per le persone. Ma tutti sappiamo che il mercato delle automobili ha anche un'esternalità negativa importantissima che si chiama inquinamento atmosferico. Quindi, mentre porta un grande vantaggio alle persone, ha anche un'esternalità negativa. Ma quali sono le esternalità negative di cui si accusa Airbnb e gli affitti brevi? Sono essenzialmente tre. Il primo è l'aumento dei prezzi degli affitti. Questo sarebbe causato dal fatto che tanti proprietari decidono di andare sul mercato degli affitti brevi e tolgono appartamenti disponibili sul mercato residenziale degli affitti a lungo termine. Una diminuzione dell'offerta, se conosciamo abbastanza bene la legge di domanda e offerta, causerebbe un aumento del prezzo di equilibrio. E quindi i prezzi degli affitti aumenterebbero per effetto dello spostamento di alloggi dal mercato a lungo termine verso quello a breve termine. La seconda esternalità negativa è l'over-tourism. Per l'over-tourism, ma probabilmente lo saprai già, si intende un turismo eccessivo in una determinata località che crea effettivi disagi alle persone che abitano in quel posto. La terza esternalità negativa sarebbe lo spopolamento dei centri storici. Ne abbiamo sentito parlare, per esempio, per il caso di Firenze, dove l'ex sindaco Nardella aveva cercato di vietare gli affitti brevi proprio perché, secondo la sua interpretazione, era diventato impossibile per i residenti di Firenze vivere nel centro storico perché non c'erano più appartamenti disponibili per gli affitti a lungo termine. A questo punto ci tengo a fare un paio di specifiche perché nei media e nella politica si parla quasi solamente di Airbnb. In realtà Airbnb, come avevo detto all'inizio di questo video, è solo uno degli OTA. Altri OTA molto famosi sono Booking, Expedia o VRBO. Questi colossi, che spesso hanno numeri anche più grandi di Airbnb, funzionano alla stessa identica maniera. Quindi quello che mi chiedo è perché si parla sempre di Airbnb e non anche delle altre piattaforme. E giusto per chiarire la cosa, Airbnb non sponsorizza questo video e io come property manager, come amministratore di una società che si occupa anche di property management, non amo Airbnb per motivi che magari approfondiremo in un altro video. Quindi non ho nessun interesse a tirare l'acqua al mulino di Airbnb. Però effettivamente, ai miei occhi, c'è un accanimento verso questa piattaforma mentre ci sono altre piattaforme che fanno la stessa identica cosa. Questo succede, a mio avviso, perché la politica e i media concorrono per l'attenzione delle persone. L'epoca in cui viviamo è stata definita l'era dell'attenzione perché la cosa più importante che abbiamo oggi nel mondo è l'attenzione delle persone, cioè dove le persone rivolgono all'attenzione. Parlare di Airbnb è molto più efficace rispetto a parlare di Expedia, VRBO o Booking semplicemente perché Airbnb ha un brand molto riconosciuto e che le persone identificano con quel fenomeno lì, cioè le persone identificano Airbnb con il fenomeno degli affitti brevi. Quindi parlare solo di Airbnb e accanirsi su Airbnb fa sì che l'attenzione delle persone sia veicolata in quella direzione. Dobbiamo però chiarire che Airbnb è diverso da affitti brevi, cioè non sono la stessa cosa. Airbnb è una piattaforma che viene utilizzata da chi fa affitti brevi per affittare il proprio immobile. Gli affitti brevi però esistono in maniera indipendente da Airbnb. Esistevano prima di Airbnb, come abbiamo visto, probabilmente continueranno ad esistere anche se venisse distrutta questa piattaforma e esistono anche su altre piattaforme, esistono anche offline, esistono da tantissimo tempo. Quindi sono due cose diverse. Airbnb è uno strumento per gli affitti brevi. A questo punto possiamo chiederci se l'aumento dei prezzi degli affitti effettivamente è colpa degli affitti brevi. Perché da molte parti si sentono ormai affermazioni che dicono che il mercato degli affitti tradizionali è aumentato, cioè sono aumentati i prezzi degli affitti tradizionali e nello stesso momento sono aumentati gli alloggi disponibili sulle varie piattaforme per gli affitti brevi. Quindi l'aumento degli appartamenti per affitti brevi è causa dell'aumento degli affitti. Questo, dal punto di vista economico e statistico, è un'affermazione errata. Perché tra questi due aspetti c'è una correlazione, ma non per forza una causalità. Per capire meglio questo aspetto, dobbiamo andare un po' nel tecnico. Due fenomeni sono correlati quando si muovono nella stessa direzione e sembrano che effettivamente abbiano delle interazioni. Per esempio, il mercato degli affitti tradizionali aumenta di prezzo, aumentano gli alloggi disponibili per gli affitti brevi, quindi probabilmente c'è una qualche correlazione fra i due fenomeni. Ma non è detto che uno sia causa dell'altro. Perché se si sostiene che l'aumento degli affitti brevi causi l'aumento degli affitti a lungo termine, si potrebbe benissimo sostenere il contrario. Vi faccio un altro esempio per capire meglio la situazione. Studiando l'allamento del consumo di gelato e dei morti per annegamento in mare, potremmo vedere una qualche correlazione. Sto inventando, non so se effettivamente c'è. Però quando aumenta il consumo dei gelati, potremmo vedere un aumento degli annegati in mare. Quindi potremmo anche pensare che il consumo di gelato causi maggiori annegamenti in mare. E vediamo una correlazione fra i due fenomeni. In realtà, andando ad approfondire meglio la situazione, capiremmo che tutto deriva da una causa terza, ovvero l'aumento delle temperature o la stagionalità. Quindi i gelati vengono consumati per lo più in estate, quindi quando le temperature aumentano, perché sono freschi e ci fanno stare bene quando fa caldo, allo stesso modo ci sono più persone che fanno il bagno in mare l'estate. E quindi, se ci sono più persone che fanno il bagno in mare, è più probabile che qualcuno affoghi. Quindi ci sono due fenomeni che sono separati in realtà, hanno una causa comune, quindi il caldo, ma non è che uno causa l'altro. Quindi prima di dire che gli affitti brevi causano l'aumento dei pressi degli affitti, dovremmo portare qualche prova a sostegno di questa ipotesi. Perché potrebbe essere così, potrebbe essere che l'uscita dal mercato tradizionale di alloggi causi un aumento degli affitti, ma potrebbe benissimo non essere così. Ci potrebbero essere altre mille cause, per esempio l'inflazione, l'incertezza economica, oppure l'aumento di domanda di alloggi in affitto perché le persone non possono più permettersi di comprare casa. Facciamo subito qualche esempio pratico. Parliamo della città di New York, dove gli affitti brevi sono praticamente ormai vietati. C'è uno studio molto interessante che vi linko in descrizione che approfondisce la situazione della città di New York con lo scopo di calcolare quanti alloggi sono destinati ad affitti brevi e se questo fenomeno crea un vantaggio o uno svantaggio per la comunità e per l'economia. Gli studiosi dell'Università della Pennsylvania hanno calcolato che a New York solo lo 0,68% degli alloggi era dedicato agli affitti brevi. Un dato che è in linea, per esempio, anche con quello di Barcellona dove è stato calcolato che lo 0,77% del totale degli immobili residenziali è destinato a questo mercato. Il risultato dello studio però riporta che questo 0,68% di alloggi sul mercato degli affitti brevi causa un impatto negativo di 178 milioni di dollari. Questo dato deriva da un calcolo preciso, cioè è stato calcolato il vantaggio economico dei proprietari degli immobili che affittano in questa maniera qua, cioè con gli affitti brevi, ed è stato calcolato lo svantaggio per gli inquilini che sono alla ricerca di un alloggio. Lo svantaggio per gli inquilini che sono alla ricerca di un alloggio è determinato dall'aumento dei prezzi sul mercato a lungo termine. Ora, come si fa a capire di quanto il mercato degli affitti brevi ha fatto aumentare i prezzi sul mercato a lungo termine? Lo studio ha presunto che tutti gli appartamenti, gli alloggi disponibili sulle piattaforme per affitti brevi per più di 180 giorni all'anno sono stati rubati, tra virgolette, al mercato degli affitti a lungo termine. E quindi, se venissero vietati gli affitti brevi, questi appartamenti disponibili per più di 180 giorni per affitti brevi migrerebbero verso il mercato a lungo termine. Quindi, considerando questo numero di appartamenti che è stato tolto al mercato a lungo termine, quindi c'è stata una diminuzione dell'offerta, attraverso delle formule si può andare a calcolare quanto è l'impatto, quindi l'aumento dei prezzi derivanti da questo certo numero di appartamenti. Il ragionamento, dal punto di vista matematico ed economico, non fa una piega, ma è l'assunzione di base che a mio avviso è sbagliata. Cioè, il fatto che se venissero vietati gli affitti brevi, gli appartamenti disponibili per più di 180 giorni migrerebbero verso il mercato a lungo termine, secondo me è un'assunzione completamente errata. Quella parte magari effettivamente andrebbe sul mercato a lungo termine, ma una buona fetta rimarrebbe probabilmente sfitta, vuota, verrebbe venduta o verrebbe utilizzata dai proprietari. Per capire meglio questo fenomeno, dobbiamo andare a capire i motivi che spingono i proprietari di immobili ad andare sul mercato degli affitti a breve termine rispetto a quelli a lungo termine. Quindi, mettiamoci nei panni di un proprietario di un immobile che ha due scelte, proporre il suo immobile sul mercato degli affitti a lungo termine oppure Airbnb affitti a breve termine. Cosa scegliereste? Beh, questo dipende dal vostro obiettivo e dalle vostre paure, dalle vostre sensibilità. Nello specifico, io che parlo tutti i giorni con proprietari di immobili, quelli che scelgono il mercato degli affitti a breve termine hanno principalmente queste esigenze. Vogliono avere flessibilità, quindi vogliono ritornare in possesso dell'immobile in maniera abbastanza veloce nel caso in cui dovesse servire. Vogliono avere flessibilità anche nel senso che magari vogliono utilizzare quell'immobile saltuariamente durante l'anno. Pensate ad una casa al mare, dove magari il proprietario va in vacanza due settimane all'anno e il resto dell'anno lo affitta con affitti brevi. Non potrebbe mai affittarlo a lungo termine perché perderebbe le sue vacanze. Il terzo motivo è la sicurezza. Infatti, chi sceglie gli affitti brevi spesso lo fa perché andando in questa direzione ha degli inquilini che alloggiano qualche giorno, pagano subito l'affitto completo, quindi pagano subito prima di entrare, poi magari lo fanno con un intermediario eccetera, ma comunque il pagamento l'hanno fatto e quindi è molto più sicuro, c'è molto meno il rischio di insolvenza da parte degli inquilini. Nel mercato a lungo termine invece non è così perché magari si affitta per quattro anni, se non otto, con solo due o tre mesi di cauzione in mano e l'inquilino in qualsiasi momento può smettere di pagare e a quel punto si deve partire con tutta la procedura di sfratto che non è per niente piacevole oltre ad essere costosa. Quindi, anche qua, mettiamoci nei panni dei proprietari e capiamo che cosa potremmo scegliere. L'ultimo motivo per cui i proprietari si orientano verso il mercato a breve termine sono i maggiori guadagni. Infatti, in alcuni casi, effettivamente, con degli affitti da 1 a 30 giorni si guadagna di più rispetto ai classici affitti. Non è sempre così, nella maggior parte dei casi le due cose si equivalgono perché comunque negli affitti brevi ci sono tanti costi da tenere in considerazione ma in alcuni casi, effettivamente, si guadagna di più. Quindi, per tutte queste ragioni non è detto che tutti gli appartamenti disponibili per più di 180 giorni per i viaggiatori, per i turisti in caso di divieto degli affitti brevi sarebbero mossi verso il mercato a lungo termine. Pensate alla solita famiglia che utilizza l'appartamento per andare in vacanza non potrebbe l'affittata a lungo termine se non vuole perdere l'opportunità di andare in vacanza nella sua proprietà. Allo stesso modo, chi esige flessibilità e sicurezza con l'attuale normativa non potrebbe spostarsi verso il mercato a lungo termine. Quindi, gli affitti brevi sono la causa della crisi abitativa? A mio avviso no. A mio avviso esiste un terzo fenomeno una terza causa che spinge questi due fenomeni quindi c'è una causa che fa sì che aumentino gli alloggi sul mercato degli affitti brevi e che peggiori la crisi abitativa. Questa causa che sicuramente non sarà l'unica quindi ti invito a scrivere la tua opinione nei commenti qui sotto però la causa principale secondo me è la legge la normativa degli affitti. Ritorniamo per un attimo nei panni di un proprietario di un immobile che deve scegliere affitti brevi o affitti a lungo termine. Beh, secondo me nella maggior parte dei casi è una lotta impari. Gli affitti brevi abbiamo sicurezza incassi anticipati disponibilità dell'immobile diciamo non in qualsiasi momento ma a breve termine e potenzialmente maggiori guadagni. Dall'altra parte abbiamo incertezza perché l'inquilino non ci paga nessuna tutela dal punto di vista legislativo e immobile bloccato per anni. Cosa scegliereste? Di nuovo vi dico queste cose da proprietario di un immobile che ho affittato con il canone concordato ne ho parlato in questo video che ho pubblicato poco fa quindi veramente io non è che voglio stare da una parte o dall'altra ma sto cercando di mettere sul piatto la realtà i fatti. Quindi come si potrebbe migliorare la situazione della crisi abitativa? La mia soluzione che probabilmente si basa anche sui miei studi sulle mie credenze anche non è quella di vietare qualcosa che viene utilizzato ma di facilitare quello che vogliamo che migliori cioè se io vieto qualcosa sicuramente non porto un vantaggio alla società e all'economia si vietano delle cose che sono dannose ma in questo caso gli affitti brevi non sono per forza una cosa dannosa quindi il divieto probabilmente porterebbe un impatto negativo ancora maggiore. pensiamo a tutti quelli che hanno dei guadagni dagli affitti brevi perderebbero quei guadagni pensiamo a tutti i turisti i viaggiatori che sono facilitati nel viaggiare grazie agli alloggi disponibili e se non ci fossero dovrebbero pagare magari molto di più per andare in albergo e magari non gli piace neanche andare in albergo perché ultimamente c'è il trend di andare negli appartamenti ma questo di nuovo è un'altra storia pensate agli effetti negativi che potrebbe avere un divieto sugli affitti brevi su tantissime attività commerciali del posto perché meno turisti meno affitti brevi meno posti letto meno persone che mangiano nei ristoranti meno persone che vanno al mare meno persone che vanno al bar meno persone che fanno shopping quindi questo potrebbe avere un indotto negativo e un altro aspetto negativo è che il numero di posti letto derivante dagli alberghi diciamo è più o meno fisso mentre il numero di posti letto derivanti dagli appartamenti è fluttuante cambia in maniera molto veloce molto agevole nell'arco dell'anno a seconda della stagionalità quindi quando c'è più bisogno di posti letto probabilmente molti più appartamenti vengono immessi sul mercato degli affitti brevi perché i proprietari sono ingolositi dai prezzi a notte abbastanza alti questo consente di far fronte a degli aumenti o delle diminuzioni del flusso turistico in maniera elastica e pensate ancora agli effetti negativi che potrebbe avere un divieto su tutti quelli che lavorano in questo settore ci sono tantissime persone che lavorano pensate alle società di property management ma non solo pensate alle persone che lavorano nelle società di property management pensate a chi si occupa della pulizia degli appartamenti quindi il divieto potrebbe non essere la scelta giusta a mio avviso se c'è bisogno di più alloggi nel mercato a lungo termine e io sono d'accordo con questo cioè sono consapevole che c'è una crisi abitativa e ci sono molte persone che hanno difficoltà a trovare un alloggio bisognerebbe facilitare i proprietari ad immettere immobili su questo tipo di mercato e partendo dalle esigenze dei proprietari che abbiamo visto poco fa in cima alla lista più sicurezza e più flessibilità le idee potrebbero essere quelle di liberalizzare la durata del contratto perché in questo momento un contratto a lungo termine in Italia significa 4 anni più 4 anni per un proprietario sono 8 anni di base minimo quindi questo è un problema è un problema percepito dai proprietari quindi liberalizzando o diminuendo anche la durata minima dei contratti di affitto magari si potrebbe dare più flessibilità ai proprietari il secondo aspetto è velocizzare le procedure di sfratto ovviamente tutti siamo coscienti che ci sono delle situazioni di difficoltà ma un inquilino che non paga è un danno enorme per il proprietario che continua a pagare le imposte sul reddito che dovrebbe percepire e deve pagare un avvocato per sfrattare quell'inquilino la procedura di sfratto non è piacevole nemmeno per l'inquilino e di solito dura un sacco di tempo 9-12 mesi velocizzando questa procedura probabilmente i proprietari si fiderebbero un po' di più ad affittare a lungo termine il terzo intervento potrebbe essere quello di introdurre un fondo di garanzia per i proprietari degli immobili analogamente a quello che accade per le banche cioè quando si sono volute facilitare le transazioni per i ragazzi giovani che volevano comprare una casa lo Stato ha messo a disposizione il CONSAP e i giovani hanno potuto prendere Mutual 100% per acquistare la prima casa ok? non è che si è obbligato i proprietari di immobili a vendere a prezzi agevolati ai più giovani semplicemente lo Stato ha fatto qualcosa per facilitare quel tipo di mercato allo stesso modo lo Stato potrebbe istituire un fondo che garantisce i proprietari di immobili nel caso in cui l'inquilino non paghi più l'affitto smetta di pagare l'affitto attenzione questa non è utopia cioè sempre quando ho affittato il mio appartamento a canone concordato nell'accordo territoriale dove veniva stabilito il canone di affitto veniva richiesto agli enti di istituire un fondo a garanzia dei proprietari quindi sono idee che già ci sono non sto inventando niente di assurdo sono cose fattibili e che faciliterebbero tantissimo il mercato degli affitti a lungo termine in ultima analisi si potrebbe prevedere ma questa in parte c'è già un'agevolazione fiscale per i proprietari che affittano a lungo termine l'affitto con il canone concordato per esempio va in questa direzione ma si potrebbe fare di più se si volesse facilitare il mercato degli affitti a lungo termine questo per me rientra nell'ottica facilitazione e non divieto che può essere negativo a questo punto mi zittisco ho finito e voglio sapere cosa ne pensi di tutta questa storia gli affitti brevi sono negativi airbnb andrebbe eliminato oppure no qual è la soluzione che pensi sia quella giusta ci vediamo nei commenti e nel prossimo video ciao